Lo scornacciato, lo giudo, c'è marato, che è la condanna marato? Avrà giù. Avrà giù, 30 anni di calcio. Avrà giù. 30 anni di calcio, da quella pavra vicciarella, mamma mia, non vedi che ciò. Ma ti fanno bene i vicciarelli? Non vedi che ciò, da quella pavra vecchia, mamma mia, non vedi che ciò. Ti fanno bene i vicciarelli? Ma puoi spiegare a me perché ci sono i vicciarelli per un euro? Guarda, quello è un euro oggi, un euro rimane, un euro oggi, un euro rimane. Uno non sa cucinare cose sordi e si levano un ebbene. L'Italia è un paese vecchio e chi ne è vecchio?